La manna? Ma tu sei il nipote del dottor Vincenzo? Sì Come ti chiami che non mi sto ricordando? Caterino 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 E vieni a me che ti do un passaggio Come sta il dottore? Va bene? Sì sta bene Si è ritirato a vivere a mare adesso Però mi ha visto crescere a me Ah sì? Salutano Come no? Il dottor Giancarlo Basile E tu ha le batterie stai? Sì E ti piace? Qualche volta mi fanno soffrire Vedi che qualsiasi cosa di problema Non devi fare sapere? Io non voglio disturbare C'è il disturbo La manna Un'ipote del dottore Qualsiasi cosa? Va bene grazie E alla masseria li tenete sempre gli animali? Qualche gallina Qualche pecono Ma poche però Eh ma qualche giorno Mi vengo a prendere Qualche uova fresca Come no? Insomma Caterino Ma tu vuoi continuare a buttare il sangue alle batterie? Io quello faccio Ma non la fa mica per sempre bro Ha 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 Grazie a tutti.